Grazie a tutti. Si sarà bene nel pomeriggio con temperature massime, seppur un po' contenute per il periodo, attorno ai 18-19 gradi. Anche su Savona, a splendere al sole, avremo estesi rasserenamenti sul territorio, con ventilazione in prevalenza debole e temperature massime attorno ai 17-18 gradi. Ebbene anche su Genova, tempo stabile assolato grazie ad una graduale rimonta anticiclonica, estesi rasserenamenti, ventilazione debole e temperature massime attorno ai 17-18 gradi. Non cambia la situazione, anche sul Tigulio, splendere al sole, le temperature massime e gradevoli su valori miti, seppur ancora contenuti per il periodo, saranno di poco inferiori ai 20 gradi. Anche sullo spezzino il tempo sarà stabile assolato, qualche nuve sì, innocua di passaggio ma senza effetti, le temperature massime al più saranno vicine ai 19-20 gradi. Nella giornata di giovedì il sole continuerà ad essere protagonista sulla Liguria, al più qualche nuve di passaggio nelle aree interne e montuose, ma non daranno luogo a conseguenti precipitazioni, poche le variazioni termiche. Per il momento è tutto, per sapere quanto durerà tale fase vi invito a restare aggiornati, come sempre, sulla nostra più gratuita Trevi Meteo. Trevi Meteo